Sono stati rilevati i primi danni dell'ondata di maltempo che sta flagellando la città di Agrigento in questi giorni. La perturbazione ha raggiunto il suo apice in nottata grazie a delle abbondanti precipitazioni e un forte vento che tra le altre cose ha contribuito a far scendere notevolmente la temperatura. I danni sono concentrati soprattutto nella zona meridionale della città, specialmente nei vari quartieri litorali. Nel viale delle Dune, già duramente colpito dal maltempo nel mese di ottobre, l'acqua ha invaso la carreggiata, lagando i più punti l'importante arteria di San Leone. Ma il quartiere più colpito è senza dubbio quello di Cannatello. Nel lungomare della frazione Agrigentina infatti il marciapiede è stato staccato dalle forti mareggiate ed è caduto verso il mare. Il danno è davvero evidente, rende particolarmente problematico l'accesso e il transito sia nella spiaggia che nello stesso lungomare. Danni anche al porticiolo di San Leone in cui le onde spesso hanno scavalcato gli scogli che ne delimitano il perimetro. Nel resto della città invece sono state diverse le segnalazioni per degli allagamenti o per dei tombini saltati ma complessivamente non si stanno vivendo per il momento grossi disagi come quelli del 12 e 22 ottobre scorsi.